La ripresa del campionato dopo la pausa natalizia, la larcianese intende rafforzare il quarto posto in classifica guadagnato con merito, con un girone d'andata di ottimi risultati e con altre tante soddisfazioni. Prenota la intera posta in palio ospitando allo stadio di Giocei il panellino di coda San Marco Avenza che farà di tutto per conquistare punti determinanti per la sua deficitaria classifica. Noi abbiamo rispetto di tutti, anche il San Marco Avenza che in fondo alla classifica sappiamo che viene all'Arciano con l'obiettivo che non ha niente da perdere, siamo noi che forse abbiamo qualcosa da perdere se non centriamo il risultato pieno. Ci proveremo come proveremo a ripetere se possibile il bel girone d'andata. Voi avete fatto pausa per quanto riguarda il calciomercato nel senso che avete tirato via Chianese e basta, per il resto poi la formazione è rimasta quella di prima. Sì sì, noi abbiamo fatto l'operazione solo in uscita, è andato via Chianese, è andato via anche un altro ragazzo dalla Juniorese, è arrivato dalla Lucchese Matteucci, un ragazzo del 95 che per ora è con la Juniorese ma che presto sarà aggregata la prima squadra. Gioca a Raciti il quadrata contro i ragazzi terribili del Rosignano Solvè, ripresentando l'attaccante Massaro, neodivorziato con il pesce ozanese. La formazione Valdinevolina è attesa ad una prova super difficile sul campo del Pietrasanta, assai più arduo il compito dell'intercomunale monsummano che riceve allo Strullui la supercorrazzata Ponzacco.